giochi con la principessa allora i biscotti li mettiamo qua un'arancia dell'acqua e cos'altro possiamo prendere principessa ricordati l'osso per me e adesso ciao ci stiamo preparando per andare a fare un bel picnic nel bosco e prendiamo anche una palla per giocare poi faremo un nascondino principessa ricordati anche la mia carota ecco adesso è tutto pronto mi stavo dimenticando la tovaglia ecco la prendo e ora siamo pronti andiamo che bello qua senti che aria buona e guarda mi è venuto una fame facciamo merenda prepariamo la tovaglia ecco qua e adesso il nostro cibo principessa qui è proprio bello oh sì anche io ho una gran fame ecco la tua carota buon appetito il tuo osso e per noi i biscotti che bontà ed ecco qui l'acqua mangiamo sono proprio piena questo lo metto via per dopo ma perché non giochiamo a nascondino nascondino sì è il mio gioco preferito oh sì io sono bravissima perfetto io conto voi nascondetevi siete pronti allora via 1 2 3 dove posso andare dove posso andare qua dietro perfetto non mi troverà mai e io io mi metto qua ecco io adesso vado a nascondermi in un posto dove non mi troveranno mai 33 34 35 36 chi è fuori e fuori chi è sotto e sotto chissà dove sono gli altri è proprio complicato tolò ti ho visto c'è la tua coda che spunta dall'albero e anche tu sei là dietro e adesso dobbiamo solo trovare la cavallina chissà dov'è non mi troveranno mai mi sono nascosta proprio bene ma cavallina cavallina non so dove è finita non riesco a trovare più la strada per tornare indietro non è di qua forse di là oddio si sta facendo buio principessa principessa sto calando la notte come faccio mi sono persa ragazzi sono passate troppe ore e non è ancora tornata sono preoccupata potrebbe aver incontrato qualche pericolo dobbiamo chiamare i soccorsi soccorsi in arrivo che cosa è successo beh stavamo giocando a nascondino e ci siamo nascosti però io ho trovato loro ma non abbiamo trovato la nostra amica cavallina e non sappiamo dove sia finita non vi preoccupate sarò io a trovarla con i miei fari mi metto a cercare posso dare una mano con il mio fiuto che paura chi è la? comincia a fare freddo buio e il bosco mi sembra abitato da presenze molto maligne ho tanta paura eccoci aspetti aspetti sento un odore penso che l'abbiamo trovata principessa ho avuto tanta paura ma ora ti abbiamo trovata grazie all'auto dei soccorsi e non ti devi più preoccupare oh grazie siete dei veri amici davvero grazie tanto eh sì è tutto merito loro anche di tolò che ha usato il suo fiuto oh grazie grazie tolò grazie camion dei soccorsi se no sarei stata perduta eh sì tutto è bene quel che finisce bene giocare nel bosco è divertente ma bisogna stare attenti altrimenti ci si può perdere ciao